I NEWS è presentato da Che Bolletta Dopo l'aggressione verbale subita dal consigliere regionale Roberto Zaffini da parte di alcuni parcheggiatori abusivi extracomunitari, Mascarin commenta fa sorridere l'improvviso amorpatrio dell'esponente leghista il quale probabilmente ha rimosso le colorite espressioni che per anni il suo movimento politico ha riservato all'Italia e agli italiani Dopo le proteste dei residenti di via Magnanini sulla possibilità che quest'ultima diventi la valvola di sfogo della nuova struttura commerciale di Viale Piceno arriva il parere della Confesercenti che dice che nell'area mancano strade adeguate marciapiedi, piste ciclabili, un'area verde che compensi tanto un nuovo cemento I Panthers Fano dichiarano lo sciopero Il gruppo organizzato dei tifosi dell'Alma Eventus Fano attraverso un comunicato ha spiegato che in occasione di Fano Fermana non entrerà allo stadio se non per posizionare i classici striscioni come segno di sostegno verso coloro che sono stati colpiti dalle diffide In news è stato presentato da Chebolletta Grazie a tutti Grazie a tutti